Ciao a tutti, sono Tullia Sbarrato e sono qui per invitarvi tutti quanti all'evento che si terrà dal 23 di settembre al 19 di dicembre qui all'edificio U6 dell'Università degli Studi di Milano Bicocca. Sarà una mostra per celebrare i 50 anni dal primo uomo sulla Luna. In questa mostra ci saranno un sacco di attività interessantissime e interattive come per esempio provare a mandare in orbita una missione lunare o provare a pilotare un rover sul suolo lunare. La mostra è organizzata nell'ambito di Meet Me Tonight ed è organizzata dall'Università Bicocca, il Politecnico di Milano, l'Università Statale di Milano e l'Istituto Nazionale di Astrofisica. È aperta a visite guidate sia per le scuole che per il pubblico che per gli studenti delle università e preparatevi assolutamente a scoprire come si manda in orbita una stazione spaziale, a provare a far allunare i vostri amici e a cercare di immergervi nell'esperienza che hanno vissuto Basoldrin e Neil Armstrong. Avremo tantissimi ospiti che ci parleranno di come la Luna ha influenzato la società e iniziamo il 23 settembre con Amalia Ercoli Finzi e Patrizia Caraveo. Vi aspettiamo qui! Grazie per la visione!